La Lombardia non merita altri cinque anni di amministrazione di destra. Fontana ha già fatto troppi danni. Per chi vuole cambiare, per chi ha bisogno di treni dei pendolari che funzionano, per chi non ha il medico di base e vorrebbe un medico a cui chiedere aiuto, per chi è senza pediatra, a tutti loro ci rivolgiamo con un appello. Votate per il cambiamento, votate per Francesco Maiorino, Presidente della Regione Lombardia. Sono le ultime ore di campagna elettorale, è importante adesso riuscire a cercare di portare al voto quelle che sembrerebbero le persone convinte a non votare. Sembra esserci ancora un po' di numeri che vanno sulla stensione, probabilmente di qualcuno che non si è informato, non ha visto tutta l'importanza che la Regione Lombardia ha rispetto alle questioni che ci toccano direttamente, la sanità, i trasporti, le ferrovie e sono tutte cose che sono decise direttamente da Palazzo Lombardia.